Per l'ultima in casa del 2012, Lagnone si presenta al cospetto dell'Ancona in gran forma e per buoni 50 minuti è padrona del Civitelle, conquistando addirittura il vantaggio per 2-0. Poi però i biancorossi alzano la testa e riescono ad agguantare il pareggio. La partita finisce infatti 2-2. Tra le file a Granata manca l'infortunato Chetà, che entra solo a metà del secondo tempo, mentre in casacca biancorossa sono al debutto Palumbo e Artiaco, ex bianco celesti. Scampamorte ha lasciato il posto a Di Bernardino, che si è dimostrato all'altezza della situazione, così come l'estremo difensore Biasella ha la sua prima partita in casa. Per la cronaca, il primo squillo arriva al sedicesimo ed è di marca biancorossa. Ruffini, dal limite dell'area, va al lato di Poco. Un minuto dopo siamo davanti a D'Arsie e Sivilla sciupa un'occasione d'oro. Al diciannovesimo Biasella compie un miracolo su un tiro insidioso di Ingari, ma è al ventesimo che arriva la svolta. Con un tiro al volo di Ricamato, che finisce dritto nella rete marchigiana. Al venticinquesimo è ancora Ingari, che tenta di rispondere, servito da Ruffini, ma spara alto. Al trentasettesimo i padroni di casa cercano di allungare le distanze con Sivilla, ma D'Arsie è pronto a deviare. Sul vantaggio Granata, dunque, si va tutti negli spogliatoi. Alla ripresa, Lagnone riesce subito ad allungare le distanze. Ci pensa Pifano al secondo minuto di gioco con un tiro cross che spiazza il numero uno ospite. La strada sembra farsi in discesa a quel punto per Lagnone, ma così non è, perché al nono, Borrelli, con un tiro dei 25 metri, riesce a segnare il gol del 2-1. Al dodicesimo, poi, Eramo illude con un secondo gol, ma la sua posizione è irregolare e dunque nulla di fatto. Al diciassettesimo l'Ancona crea ancora insidie, ma Biasella si tuffa a scongiurare il peggio. Nulla può, invece, un minuto dopo, quando Ruffini infila il gol del pareggio, complice una difesa imbambolata. Al ventinovesimo l'occasione per Lagnone arriva su calcio piazzato con Chetà, entrato a sostituire Di Lollo, ma il portiere para. Al trentatreesimo, Leonetti a tu per tu con D'Arsie, sciupa un'occasione d'oro. Al trentasettesimo, ecco un episodio da Moviola. Eramo sembra stoppare in aria la palla, prima col braccio sinistro e poi col destro, ma per il direttore di gara è tutto regolare. L'ultima chance per Lagnone è al quarantatreesimo con Chetà, che però manda al lato. L'ultima in casa del girone di andata si chiude con un pareggio, dunque, per Lagnone, che non è malaccio, vissi gli avversari. Ma un po' di rammarico c'è comunque, soprattutto perché, con un po' più di cattiveria, avrebbe potuto avere la vittoria in pugno.